ciao a tutti oggi prepareremo il pollo al limone il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono fettine di petti di pollo sale pepe origano semola limoni tagliate a fette acqua olio e patate tagliate a fette chiamiamo via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale versando all'interno del boccale l'acqua un cucchiaino di sale chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo il varoma all'interno del quale andiamo a mettere le patate che condiamo con sale e pepe adesso andiamo a panare i petti di pollo mettiamo la semola nel piatto iniziamo a panare i petti prendiamo il vassoio del varoma lo posizioniamo sopra il varoma e andiamo a posizionare le fette panate che condiremo con sale e pepe proseguiamo così fino al completamento delle fettine adesso irroriamo con un filo d'olio condiamo con dell'origano secco e completiamo con le fettine di limone chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 30 minuti temperatura varoma velocità 1 il pollo è cotto anche le patate sono cotte andiamo a impiattare pollo al limone grazie e alla prossima ricetta ciao 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 Grazie per la visione!